Giulia Dell'Elis sbotta contro la presunta amica come molti sapranno, Giulia Dell'Elis e Andrea Damante si sono detti definitivamente addio dopo anni di amore. E' stata proprio la giovane ex corteggiatrice del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Chilippi ad annunciarlo sui social. E successivamente anche Andrea Damante ha confermato il tutto, chiedendo di rispettare questa loro decisione. Ovviamente da quel momento in poi ci sono state tantissime illazioni, e molti loro fan, hanno subito pensato che Damante abbia tradito la Dell'Elis. Tuttavia né l'uno né l'altra hanno mai confermato o smentito tali ipotesi, onde evitare ulteriori polemiche. Ma non è finita qua perché sull'ultimo numero del magazzine Nuovo TV una presunta amica dei due ex piccioncini è tornata sull'argomento, rivelando che si sarebbero lasciati perché in crisi già da tempo. Sempre questa ragazza ha anche svelato che Giulia e Andrea per superare questo brutto periodo si sono anche concessi una romantica vacanza a Londra, ma purtroppo non c'è stato niente da fare. Ma ecco che Giulia dell'Elis, dopo aver letto queste dichiarazioni della presunta amica, si è riversata su Instagram, smentendola ironicamente. Una risposta, che poco ha lasciato all'immaginazione. In pratica i due si sono lasciati per ben altri motivi, in un certo presunte crisi o per un amore che con il tempo è andato ad esaurirsi. Giulia dell'Elis nega di essersi lasciata con Damante perché in crisi Giulia dell'Elis e Andrea Damante sembrava, dovessero sposarsi entro pochi mesi, poi ecco il colpo di scena, che ha creato un bel polverone mediatico. I due si sono incredibilmente lasciati, non fornendo però alcuna spiegazione perché, come detto da Giulia dell'Elis stessa. I panni sporchi vanno puliti in casa, tuttavia il gossip si è scatenato, e le voci di corridoio su dei presunti tradimenti di Andrea Damante si sono sprecati. E a tal proposito giorni fa, anche Wendalina Tabassi ha criticato molto quest'ultimo sui social, utilizzando i pittenti davvero poco carini nei suoi confronti. Intanto nelle ultime ore una ragazza, che è voluta rimanere anonima, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul settimanale Nuovo TV in cui ha rivelato che i due sarebbero stati già da tempo in crisi. Motivo per cui si sarebbero lasciati. Una dichiarazione, che ovviamente non è certo passata inosservata, nemmeno a Giulia dell'Elis, la quale su Instagram ha smentito tutto, definendo quelle parole né più né meno delle fesserie. Quale sarà la verità? Verrà mai fatta chiarezza su questa intricata vicenda? In attesa di scoprirlo non resta che augurare ai due ex di riuscire a superare questo difficile momento. . . . . .